8 gennaio 2008, ecco quello che rimane dell'ex standa di Ostia, si legge in malapena i resti dell'insegna, si legge proprio per miracolo, poi è diventato Watt, poi è chiuso, locali invece abbandonati, spiettate le vetrine, i vetri sfasciati, porti cifrati bellissimi siamo abbandonati, guardate qua sotto, bottiglie e monnezza, manifesti, scritte su modri, vetri sfasciati, ma dico ma questo locale non potrebbe essere utilizzato, la zona della sezione di Ostia non potrebbe diventare come diventata la sezione Termini, hanno fatto dei negozi bellissimi all'interno della sezione, hanno rivalutato la zona, guardate qui, tutto è chiuso, questo è quello che rimane dell'ex standa, buongiorno.